Allerta meteo per 36 ore, l'Abruzzo è interessato da un progressivo abbassamento delle temperature, forti, raffiche di vento e precipitazioni violente. Sono le correnti provenienti dal nord dell'Atlantico che scacciano definitivamente lo strascico d'estate dalla nostra regione, cali previsti fino a 10 gradi. Se da un lato in queste ultime ore abbiamo assistito ad una sensibile diminuzione delle temperature con forti raffiche di vento, in particolar modo sul settore orientale della nostra regione, nelle prossime ore ci saranno delle schiarite perché assisteremo a un temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche ma non deve trarre in inganno questa situazione poiché nel corso della giornata di domani soprattutto dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio torneranno nubi e precipitazioni che stavolta potranno risultare intense e persistenti, in particolar modo ancora una volta sul versante orientale della nostra regione, soprattutto nel Pescarese e nel Chietino. A rappresentare il rischio maggiore sarà la perturbazione che porterà rovesci di forte intensità dunque valgono le solite ma indispensabili accortezze per viaggiare sicuri. Ci sarà il vento forte quindi questa sarà una delle insidie principali. Successivamente nel corso della giornata di giovedì invece l'allerta sarà soprattutto relativa alle precipitazioni che potranno essere intense e persistenti, soprattutto nel Pescarese e nel Chietino ma in particolar modo su gran parte del settore orientale della nostra regione dove tornerà a cadere la neve intorno ai 1.200 e 1.400 metri complice il generale abbassamento delle temperature. Infine buone notizie per il weekend, la perturbazione lascerà spazio a schiarite. Sì diciamo che alla base dei dati attuali avremo una situazione decisamente migliore rispetto a quella attuale anche se comunque non in un contesto di stabilità. Quindi si tratta comunque di una tendenza da confermare nel corso dei prossimi giorni.